Allora Suricatti, devo andare a comprare dal mercato di Parigi Certamente, andrò a salutare gli amici D'accordo, ci vediamo dopo Suricatti Ok, a dopo Ciao amici uccelli, ciao Suricatti Acquistiamo dal mercato di Parigi? Certo, adesso compriamolo Mi scusi, posso comprare gargoglie? Certo Suricatti, sì Posso acquistare con i soldi? Certo Certo Grazie, questo è per te Grazie Bababoo Di niente Buona giornata Suricatti Abbiamo contratto gargoglie Bene Come ti sei trovato al mercato libero? Mi sono trovato molto bene Yeah Woooo 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 Yeah Olè Woooo Woooo No 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 Ah Quindi Grazie a tutti